Sui banchi insieme al progetto delle vetture trovate il testo della preghiera del Calezzo di Medi e ora la parola di Natus mancherà regalato su questo momento di preghiera dei ministri. Il segno di contraddizione che annuncia sia la rivolta dello Spirito contro le infane interessi dominanti, la sordità direte della massa. A noi offresti da un giorno dov'è che prima di noi ha calpestato te, fonte eterna di libera vita, dona la forza della libertà. O Dio verità e libertà, rendici veri, liberi pensi. E la vita sul nostro proposito, rendi forte la nostra volontà. Noi ti pregiamo, Signore, ti pregiamo. Tu che fosti restinto il tracciato, perseguitato, bravito progettivo, Gentilizzato viene��ato, liberi pensi. A noi non ci pregiamo, non ci pregiamo, non ci pregiamo, è libero? E la vita sul nostro proposito, non ci pregiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.